Per il terzo anno consecutivo Palena ospita il ritiro del Pescara, sindaco per voi una grande soddisfazione ma anche per tutta la comunità del Sangro Aventino? Sicuramente sì, io rappresento in questo momento il presidente dell'Unione dei Comuni, siamo sei comuni e c'è un buon ritorno con questa presenza del Pescara. Grazie all'impegno della polisportiva Palena abbiamo questa fortuna che ci permette poi di poter ospitare squadre come l'anno scorso di Serie A, ahimè, poi esce senza Serie B, ce ne dispiace tanto ma speriamo che quest'anno sia l'anno buono per risalire. Palena dunque ospita ancora una volta il Pescara, come diceva c'è stata anche una buona risposta dal punto di vista delle presenze nel vostro centro? Sicuramente sì, è un periodo anche questo che comunque le presenze già ci sarebbero state però sono aumentate di tanto e faremo in modo se vi vedi io se l'anno prossimo con il padrone Sebastiani di fare un incontro per far sì che facciamo un progetto più ampio. Progetto ampio, questo vuol dire che state già lavorando per la prossima stagione? Incrociamo le dita perché il Pescara per noi rappresenta una buona fetta di economia ma soprattutto ne approfitto per ringraziare il padrone Sebastiani e lo dico spesso che ha scelto l'Abruzzo per il ritiro della sua squadra, cosa non dà poco sapendo che l'Abruzzo è una regione ferita. Molti si chiedono come mai il Pescara sceglie spesso in queste ultime stagioni così è stato Palena. Qual è il segreto per comunque riuscire ad ospitare una squadra di serie A, una squadra di serie B in un paese piccolo come quello di Palena? Sicuramente merito va dato agli sponsor, bisogna essere onesti. Senza tanti sponsor non potremmo assolutamente ospitare il Pescara. Gran merito va anche all'amministrazione comunale che non si tira indietro per ringrazi su questo. Sindaco, l'ultima domanda, non posso non chiederle qualcosa dal punto di vista proprio sportivo. Pescara pronto per questo campionato di serie B? Io non sono tanto giovane, però vedo che in questa squadra ci sono tantissimi giovani. Io essendo, come dico spesso, un termine improprio, drogato di calcio, noto che il giovane sta un passo avanti, senza offese per noi veterani, anziani. Grazie a tutti.